Safegate Pro, igienizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visita il nostro sito safegatepro.com Bentornati all'appuntamento con la meteo di TV6. Nel corso di questo lunedì 21 febbraio assisteremo al transito di una rapida perturbazione artica. I primi fenomeni legati appunto a questa irruzione più fredda si concentreranno sulle regioni centrali, sul lato atriatico in particolare. Avremo un aumento importante della nuvolosità nel corso della giornata, qualche acquazzone e qualche prima nevicata in appennino dopo il forte aumento delle temperature arrivato nei giorni scorsi. Per quanto riguarda l'Abruzzo si prospetta l'inizio di settimana inizialmente stabile con cieli poco nuvolosi, con schiarite abbastanza ampie. Poi nel corso della giornata assisteremo all'arrivo di precipitazioni a cominciare dai settori setentrionali. Quindi entro sera possibilità di piogge sull'Aquillano settentrionale, il Terramano, il Pescarese con fiocchi di neve in alta quota. Ma comunque in calo nel corso della tarda sera fino ad arrivare attorno ai 900.000 metri entro le ore notturne. Le precipitazioni coinvolgeranno tutta la regione. Le temperature quindi ancora abbastanza elevate al mattino con massime attorno ai 16-17 gradi, poi netto calo termico in tarda sera anche di oltre 10 gradi. Grazie per essere stati con noi, arrivederci al prossimo appuntamento. Visita il nostro sito, SafegatePro.com